Tutti i bastoncini monopezzo di Dynafit sono dotati della Touring Plate, una rotella da noi appositamente sviluppata che grazie all'ampia superficie e dal particolare profilo garantisce un galleggiamento elevato e una buona spinta anche nella neve profonda. Una punta speciale permette un'ottima presa sui terreni ripidi e ghiacciati e il tutto con soli 17 grammi di peso, un'ottima scelta per lo sci alpinista esigente. Il bastoncino monopezzo Skitouring Pro in Titanal è stato sviluppato sulla base delle esperienze nel settore agonistico e adattato alle esigenze di affidabilità e resistenza dello skitourer classico. Mentre l'impugnatura lunga consente diverse posizioni di presa, la manopola in sughero e la cinghia in neoprene offrono il massimo comfort e quindi la massima trasmissione della forza in salita. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!